9 agosto guardate agosto agostembre siamo ad agostembre siamo alle capanne di carrega 1370 metri e le quali di carrega dove che hanno inventato la carrega giusto bello spettacolare qua si vede un bel nulla nebbia nebbia oh che bel gatto è venuto a trovarci anche all'antonella questa volta dai andiamo a farci un bel giro della nebbia facciamo il giro delle nebbie oggi bosco fitto passato mucche tanta cacca ecco 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 l'idromassaggio ma non ci dobbiamo un po' da mandare a roma ecco ecco ma non ci dobbiamo un po' da mandare a roma ah ah nella birra nella pipa passiamo di qua allora si perché sono a luci a luci a luci no a luci no al monte alfeo lì si va su dal sentiero c'è un po d'aria monte alfeo ma sì è una giornata che qui è l'unico posto che forse non prendiamo acqua oggi per cui dobbiamo accontentarci giusto un momentino di quello che ci passa al convento monte carmo un'ora 40 monte alfeo un'ora 45 alla faccia che siamo arrivati uscire dal busco del busco guardate e abbiamo l'ultima rampa di salitina bella tosta questa è bella tosta ma tosta abbiamo già fatto tanta di quella discesa che mi viene un colpo a pensare che mi toccherà farla tutta in salita guarda che roba chissà magari c'è un ristorante che fanno delle cose lì fuori dal normale ma roba è da matti guarda noi invece dove stiamo andando ma qui siamo impazziti dai ripresino di mezza via siamo quasi sopra a sto monte qua che non ricordo più la c'è l'osservatorio l'osservatorio è la radar per l'aeronautica siamo arrivati tutta con la cresta lì abbiamo fatto spettacolo c'è un vento boia noi abbiamo ancora un bel pezzo e siamo sopra dai 200 metri in linea d'aria o 300 vado nebbia vento siamo sul monte del feo 1700 e passa a metruzzi siamo arrivati finalmente sulla carta sembrava meno dura quello che mi spaventa che ancora una montagna di salita da far più l'angesterno quello che si mi da un rinno di fastidio però nell'insieme scrivi bene neanto scrivi scrivi anche qualche berlinata che sai il panorama è splendido ma adesso andrà via già visto Nando l'osservatorio non ho affatto in tempo a come si dice a fare una ripresina prima che arrivasse la nuvola ma che roba è già qua la mia perchè è la tua mela questa è la tappa la mia mela questa è la tua metà la mia mela la mia mela la mia mela vedi dove è going tolto l'attacco una mia mela non è in voi aspetta Aspetta, 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 ancora vivo, ma anche perché tu non sai bene perché gliel'hai date, ma magari l'hai prese perché l'hai prese, ecco se lo sai dillo, se non lo sai sallo, guardate che albero, beh il tempo si è rimesso un po', adesso stiamo tornando, si è rimesso un po' il tempo, non fa più freddo freddo, la nebbia è sparita, è rimasta più alta, adesso torniamo indietro, è lungo questo giro, dai a dopo, bestia al pascolo, eccole là, siamo arrivati, stasera, c'ho la tornatorrite, e sono il tornatorrinco, oh signora, oh fly, finalmente, finalmente, ci siamo, dai ci vediamo alla prossima escursione, ora ne, ciao bello sicuro! ciao bello, ciao bello!